Primo spettacolo Da dove nasce l'idea di fare un film intorno a un argomento di cui si parla molto e che per i giovani è diventato un grande problema, no? Quello della ricerca di una casa che diventa poi il simbolo di tante altre cose Nasce, oltre che da quello che hai detto tu, se ti posso dare il tu dal fatto che io ho sempre pensato che il luogo in cui si svolgono le storie d'amore sia importantissimo, quindi la casa di conseguenza Credo che ogni storia d'amore ha uno svolgimento piuttosto che un altro a secondo di dove avviene e quindi mi piaceva mettere vicine tre situazioni abbastanza diverse fra di loro e cercare di capire perché una storia prende un verso piuttosto che un altro Naturalmente la storia dei due ragazzi ricchi, diciamo, Marian Catania e Giulio Forges da avanzati è quella che fa un po' da contraltare alle altre due, una più piccola borghese, un'altra decisamente più proletaria e quindi da questo intreccio si può capire come la situazione anche economica, sociale dei protagonisti è condizionata dalla casa Di solito nei film, almeno in italiani, c'è sempre il problema di gestire la coppia omosessuale da parte dei genitori No, qui il problema per la madre non è che li porta l'omosessuale in casa e il figlio è omosessuale ma che li porta il poliziotto Esatto E poi c'è tutto il pericolo che dovrebbe liberare la casa dai suoi affittuari Sì, ma questa è forse una delle ragioni per cui ho accettato il ruolo che Maurizio mi ha proposto che era proprio quella di non dover raccontare ancora una volta la difficoltà di vivere la propria omosessualità nella nostra società che è comunque una barbarie se ci pensiamo ma è uno step successivo quindi Enzo, il mio personaggio, è un gay consapevole lo sa, lo vive bene, lo vive con la madre che gli dà consigli quindi parla di uomini Chi giudica i suoi compagni, i dai voi Sì, assolutamente, è come se parlasse di donne in lo stesso identico modo quindi non c'è alcuno scontro né generazionale né c'è quella lotta per farsi accettare come gay è una fase successiva, molto più, forse nuova perché vista poco al cinema si vede più di altro al momento in cui si combatte per riconoscere i propri diritti la propria omosessualità, per affermarsi Alla prossima